Una donna di 36 anni originaria della provincia messinese è stata arrestata dai carabinieri di Caltanissette e condotta nel carcere di Messina dopo essersi allontanata dalla struttura di recupero per tossicodipendenti del capoluogo nisseno in cui era ospite. Ma non è questo il suo unico guaio visto che attualmente è imputata davanti al tribunale di patti con le accuse di avere maltrattato i genitori ed avere storto loro del denaro. Una vicenda di profondo disagio quella che emerge dalle carte processuali. Secondo l'accusa la 36enne negli ultimi due anni aveva avuto un atteggiamento di disprezzo quasi totale verso i genitori quali soffrono di alcune patologie. Più volte l'imputata sempre secondo l'accusa ha chiesto loro del denaro per acquistare gli stupefacenti e sarebbe arrivata ad aggredirli in caso di rifiuto. Una vicenda che stando ai capi di imputazione va avanti da oltre due anni. Recentemente la giovane era entrata in una comunità di recupero nissena ma lo scorso 20 settembre si era allontanata interrompendo il programma di riabilitazione. Ed allora il tribunale di patti ha disposto alla misura cautelare della custodia in carcere eseguita come detto dai carabinieri di Caltanissetta.